Sono nuovamente finiti nei guai i baby vandali che lo scorso 25 aprile avevano devastato l'asilo di Camucia. Sono stati infatti colti in flagrante alcuni giorni dopo il raid dentro la scuola mentre tentavano di rubare all'interno di un appartamento. I ragazzini hanno tutti tra gli 11 e 12 anni e sono residenti in Val di Chiana. Adesso dopo la denuncia è attesa una decisione del Tribunale Minorile di Firenze in merito a possibili misure di sicurezza. Essendo tutti minori e con meno di 14 anni non risultano imputabili e non potranno essere processati e condannati. I provvedimenti potrebbero essere di vario tipo, dal riformatorio minorile al semplice obbligo di non frequentare determinati luoghi o di non uscire di casa in determinati orari. Proseguono intanto anche le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cortona guidati dal capitano Monica Dallari sulla devastazione dell'asilo. Sette ragazzini individuati e denunciati ma al momento non si escludono ulteriori sviluppi delle indagini e quindi nuove denunce. La baby gang era entrata in azione in pieno giorno nel pomeriggio di Pasquetta. Sarebbe entrata dalla porta della menza ed una volta dentro avrebbe messo tutto a suo quadro distruggendo mobili, materiale tecnologico, spaccando vete ed infine imbrattando tutto con salsa di pomodoro e manomettendo gli estintori.